Considerato il numero di abitanti, Pesca Seroli, in provincia dell'Aquila, è il comune abruzzese che paga più debiti e mutui. Ben 448 euro pro capite ogni anno, seguono altri due centri dell'Aquilano, Cappadocia e Carapelle Calvisio. E' quanto emerso da un monitoraggio della fondazione Open Police, che tenendo conto anche di rateizzazioni e tassi di interesse, ha analizzato la spesa delle amministrazioni comunali dedicata al debito pubblico. In termini assoluti è Pescara, la città più indebitata d'Abruzzo. Il capoluogo adriatico deve restituire quasi 16,3 milioni di euro, che però si traducono in 136 euro per ogni cittadino. Seguono, seppur con distacco, l'Aquila, indebitata per 4,4 milioni, e Francavilla al Mare, con quasi 3,7 milioni. Tre capoluoghi di provincia, inoltre Teramo, indebitata per quasi 2 milioni di euro, mentre il dato di Chieti, presumibilmente il più importante d'Abruzzo, è mancante. Il capoluogo tetino, infatti, dovrà pagare 56 milioni di debiti. A fine dicembre scorso è stata approvata dalla maggioranza del sindaco Ferrara la dichiarazione di predissesto, un provvedimento che dovrebbe consentire all'ente di applicare misure per ripianare il disavanzo e scongiurare una prospettiva ancor peggiore, quella del dissesto finanziario. È stato poi approvato il piano pluriennale di riequilibrio finanziario per un importo di 78 milioni di euro, che dovrebbe portare a una rimodulazione delle tariffe e delle aliquote, senza raggiungere i tetti massimi, e di accedere al fondo di rotazione di 15 milioni per finanziare la spesa corrente. Nel rapporto, però, Open Police precisa che l'indebitamento per le amministrazioni pubbliche non è necessariamente un fatto negativo. Contrarre mutui o prestiti, infatti, per un ente locale può significare anche la volontà di investire su infrastrutture. Per legge i comuni possono indebitarsi solo per gli investimenti e la costruzione di rilevanti opere pubbliche, ma non per le spese correnti, come quelle relative al funzionamento della macchina amministrativa o all'erogazione dei servizi ordinari nei confronti della cittadinanza. Contrarre debito, inoltre, nell'economia neoliberista è un metodo sempre efficace per ottenere immediata liquidità.